Rimaniamo sempre in argomento i rischi ambientali della Presila al centro di un incontro promosso dal Movimento 5 Stelle, dibattito sulle discariche a Celico con la mancata bonifica di località San Nicola dopo i dati sulla presenza sopra i livelli di legge di nichel e manganese e la discussione sul futuro dell'impianto gestito dai Vrenna, il confronto dei cittadini e gli amministratori cui i cittadini amministratori lottano da anni. Sentiamo Ilaria Raffaele. Quali sono le colpe del Sindaco? Le colpe del Sindaco innanzitutto di non aver informato come si deve la popolazione del disastro ambientale della discarica di San Nicola e in più di non aver fatto tutti gli addempimenti previsti dalla legge che prevedono la messa in sicurezza e la bonifica dell'aria. Essendo di proprietà comunale il Sindaco, essendo il primo responsabile della salute pubblica dei cittadini, dovrebbe subito fare qualcosa a riguardo. E sull'ex discarica di San Nicola che il Movimento 5 Stelle di Celico chiede interventi immediati, il sito chiuso nel 2003 ha sversato nel terreno e forse nella falda acquifera manganese e nichel. Due metalli pesanti, responsabili di danni alla salute e che sono stati trovati in quantità molto superiori ai limiti di legge. A certificarlo l'ARPACAL nel 2016, a distanza di un anno, dicono i portavoce calabresi, nulla è stato fatto per salvaguardare un territorio a forte vocazione agricola e in cui c'è anche il grande impianto gestito dai fratelli Vrenna, per il quale i 5 Stelle chiedono la chiusura. Il Sindaco di Celico risponde che una messa in sicurezza dell'ex discarica di San Nicola è stata terminata nel dicembre 2015, ma non è una bonifica, dicono dal Movimento. Abbiamo presentato una diffida al Comune di Celico e alla Regione Calabria per l'omessa bonifica del territorio su cui insisteva la discarica di San Nicola, che era stata dismessa nel 2003. Questo si inserisce in una serie di iniziative intraprese dal Movimento 5 Stelle, a partire dai Comuni fino ad arrivare al Parlamento europeo, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente. Non solo le discariche, quello che i 5 Stelle sollevano è un problema più generale. Celico è infatti tra i Comuni, finiti nella procedura di infrazione per l'assenza di reti fognari adeguate e per la mancata depurazione delle acque reflue.